Ciao Maker! Benvenuto su Zio Orso, il canale dedicato a quelli come te. Io sono Mauro e oggi, in questo video, ti parlerò del mio banco sega della Parkside. Sigla! Il secondo video che ho caricato all'interno del mio canale riguardava proprio questo banco sega ed è in assoluto il video più visualizzato all'interno del mio canale, quindi sicuramente è un argomento molto interessante. E poi gli elettro utensili della Parkside sono molto popolari e quando si parla di banco sega sicuramente è l'argomento più interessante per quanto riguarda l'allestimento del nostro laboratorio. Ricordo che quando ho fatto il video feci delle prove di taglio e rimasi molto entusiasta di come reagiva il banco sega al mio primo utilizzo, però era appunto, era il mio primo banco sega del mio primo utilizzo. Penso che oggi, dopo due anni da allora, posso darvi un giudizio più consapevole per quanto riguarda i pro e i contro di questo banco sega. Per quanto riguarda i pro, sicuramente il più importante è il prezzo. Infatti ricordo che lo pagai intorno ai 130 euro e per quanto riguarda questo argomento sicuramente questo banco sega non ha rivali. Un altro pro può darsi che questo è un banco che serve per tagliare tavole e pannelli di legno per uso hobbistico e quindi sicuramente si riesce a fare questa cosa con questo banco sega. Però quando parliamo di contro invece bisogna iniziare a parlare degli altri miei video più popolari all'interno del canale. Infatti gli altri video più popolari all'interno del mio canale riguardano proprio le soluzioni ai problemi irrisolvibili che ha questo banco sega. Questo banco sega esce di fabbrica con 2000 watt di potenza e quindi quando lo accendi sembra che decolla. Inoltre ha come base di supporto un telaietto di lamierino che è assolutamente inadeguato alle necessità di questo banco sega. Vibra e non è stabile per niente. Infatti uno dei video sempre più popolari all'interno del mio canale youtube è quello per la costruzione di un supporto diverso fatto di legno un po' più pesante. Ve lo lascio nelle schede però nonostante la costruzione di questo supporto le vibrazioni del banco sega erano talmente forti che riuscivano a spostare anche questo telaio un po' più pesante in legno. Probabilmente avrei dovuto farne un altro con una base un po' più grande e anche più pesante però nel mio vecchio laboratorio non potevo occupare tutto quello spazio necessario e quindi non ho potuto farlo. Il motivo per cui lo chiamo cavallo pazzo il mio banco sega è proprio questo ossia che si imbizzarrisce e vibra continuamente. Altra nota dolente sicuramente è la guida laterale. Infatti sebbene questa sia di alluminio e abbia un meccanismo di fissaggio ben saldo purtroppo questo è mano laterale e quindi quando lo si fissa sul banco sega la parte più lontana è libera di muoversi se si esercita una pressione adeguata. Pressione inevitabile quando si esegue un taglio e quindi io l'ho personalizzato, ne ho costruito un altro, vi lascio il video nelle schede. L'ho costruito in legno, eccolo, con un aggancio sul davanti che quando si serra il meccanismo, quello di fabbrica che ho incastonato all'interno di questa guida laterale, rende un po' più rigida la tenuta della guida laterale e quindi esercitando una pressione su di questo non si sposta facilmente e quindi riusciamo ad eseguire i tagli correttamente. Purtroppo l'unico metodo che si ha per verificare che la guida sia fissata parallelamente alla lama è quella di misurare la distanza tra lama e legno. Sin da subito è stato chiaro che la guida goniometrica fosse completamente inutilizzabile, dunque per poter eseguire dei tagli a troncare ho dovuto costruire delle slitte. Ne ho costruite di due tipi, una molto semplice che non permette il fissaggio del pezzo sulla slitta, mentre la seconda un po' più complessa permette il fissaggio del pezzo sulla slitta stessa ed ha molte guide utili per diverse lavorazioni. Credo inoltre di essere stato uno dei pochi in Italia che ha spiegato esattamente come registrare la battuta della slitta. Se ti interessa sapere come si fa ti lascio il video qui nelle schede. Un'altra caratteristica fastidiosa che ho trovato su questo banco sega è il fatto che il coltello separatore sia leggermente più alto rispetto alla lama. Questo rende impossibile l'esecuzione di incisioni su tavole e pannelli e quindi l'ho dovuto togliere, cosa che vi sconsiglio vivamente di fare perché il coltello separatore serve per evitare il kickback, cosa pericolosissima e quindi per favore non fatelo. Ma questi erano tutti problemi risolvibili del banco sega. Cosa invece indollerabile, per cui non ho trovato assolutamente rimedio, è il fatto che quando si alza e si abbassa la lama del banco sega, questa ha scodinzoli. Ve lo faccio vedere. Questa caratteristica rende praticamente impreciso permanentemente questo banco sega. Quindi, diciamo, questo rende assolutamente impreciso il taglio di questo banco sega. O meglio, se dobbiamo fare dei lavori hobbistici dove la precisione al millimetro non è importante, va benissimo. Però se cerchiamo la precisione, purtroppo questo banco sega non può esserci utile. Ma allora, consiglio ancora l'acquisto di questo banco sega oppure no? La risposta è dipende. Sicuramente se dobbiamo capire se ci interessa il lobby della lavorazione del legno e non ci servono dei tagli con delle misure precise, abbiamo magari un budget molto limitato, questo banco sega può rispondere alle nostre esigenze. Però se la lavorazione del legno è un hobby, una passione che è destinata ad andare avanti, presto o tardi questo banco sega ci metterà davanti a dei limiti. Oltre a questo, sicuramente è un banco sega sul quale bisogna mettere le mani. Bisogna mettere le mani per la stabilità, per la sicurezza, per la precisione dei tagli, bisogna misurare spesso la distanza tra lama e guida laterale. Sicuramente se dovessi acquistare di nuovo un banco sega oggi, opterei per qualcosa che mi permette di scendere a compromessi un po' meno spesso rispetto a quanto ho fatto con questo qui. A tal proposito vi metto in descrizione dei link a dei banchi sega che nel corso degli anni ho avuto l'occasione di tenere tra le mani e quindi di confrontare con il mio e magari oggi opterei piuttosto per questi banchi sega piuttosto che per il Parkside e vi invito anche ad iscrivervi al mio canale Telegram che trovate qui sotto perché lì ogni tanto posterò dei link dei prodotti che mi interesserebbe avere nel laboratorio oppure che penso possano essere interessanti per voi. Questo è il primo video dell'anno che pubblico e quindi colgo l'occasione per farvi gli auguri di buon anno. Non voglio dilungarmi più quindi vi saluto, al prossimo video, ciao!